Burrani, oggi su Minecraft tornano alle Bedwars con Loco. Loco, oggi avremo degli elementi di disturbo, perché i nostri amici volevano far parte di questa sfida e alla fine sono entrati nell'isola. Perché sono elementi di disturbo? Perché come ben vedi, tu non puoi passarli all'interno, no? Tata Marci. Dove sei? Non ti vedo. Non lo vuoi. Ciao Loco. Un po' di roba. Ehi, sì, puoi andare a... Cioè, è una cosa assurda, sono degli elementi super di disturbo e danno totalmente fastidio. Ma possiamo subito iniziare, Loco. Sì, iniziamo. Indovina dove sono io? Indovina dove sono? Sono già al centro, Loco. Ma com'è? Hai iniziato prima di dire inizio. Cioè, l'hai fatto? Tu l'hai fatto? No, non è vero. Non è vero. Non è vero. Ma che stai a dire cavolate, per favore. No, no, non lo fai mai. Il problema è quando vanno sui punti. Sì, perché poi devi fare tipo... Dei mettere altri blocchi. Esatto. Lo sai che anche al centro ci sono e quindi qua è un problema enorme. No, no, no. Va bene, va bene. Oh, oh, oh. Sono... Tu dove sei, Loco? Non sei... Oh, sei già al centro anche tu. Sì, sono al centro. Guardo in chat. Perché sei caduto, Loco? Perché sono caduto. Sono stupido. Loco, chi sta prendendo gli smeraldi per le armi? Indovina un pochettino. Devi calmarti. Se vuoi possiamo fare uno scambio. Facciamo uno scambio. Dammi lo scambio, dimmi lo scambio, dai. Dimmi sto scambio. Io ti do due fere e tu mi dai gli smeraldi. Due fere per... No, io voglio due fere. Uno Steph e un Kendall per gli smeraldi. Va bene, ti dai tutti quelli che vuoi tirare. Portali. Come li porti? Ma dove sei, Loco? Ehi, ciao. Ciao, Loco. Come stai? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Non stai? Stai lì al centro? No. Dove sei? Non ci sono io. Non sei? Al centro? Tutto schifoso. Non è niente. Wow, 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 wow. E wow. Facciamo che prima bardo. No, cosa bardi, scusami, eh? Il letto. Posso guardare tipo le persone dentro? Così loro mi difendono? Penso di sì. Perfetto. Penso di sì. Uh, guarda, posso farmi le armi. Allora, fai così. Prova a sparare alle persone. Eh, sai che ci stascono. Ma secondo me puoi ucciderle le persone? Prova a vedere, forse ti picchiano. Dove sei tu, Loco? Sei al centro? No. Dove sei? Dimmi dove sei. Al centro. Ma dove? In cima. Dai, vieni giù. Dai, Loco, vieni giù. Sei tu te? Sei sotto? No, non sono sotto. Sì, sono sotto nella mia base, però. Sotto nella tua base? Non ti vedo. Dove sei? Ma non ci sei? Sì, sono nella mia base. Non ci sei, non ti vedo. Nascosto, ho shiftato, così non mi puoi vedere. Ma non ci sei? E in realtà sto facendo qualcosa di cattivo, Loco. Io lo faccio. Marci, ti ho già sgamato, mi spiace. Che cosa? Stai facendo un ponte. Allora, stai al centro. Stai al centro, scendo. Pensavo stessi facendo un ponte sotto, in cima al mondo. No, no, no. Ero al centro che stavo cercando di prendere i diamanti e non farmi vedere solo che eri lì e non volevo andare. Ma vorrei tollarmi. Sì, infatti dai, un pochettino ce l'ho fatta, no? No, non penso proprio. Non ce l'ho fatta. No, non penso. Non ce l'ho fatta. Vabbè, io comunque in tutto ciò le armi le ho prese. Tu come sei messo ad armi? Appena ti vedo te lo mostro. Facciamo una cosa, Loco. Dai, devi chiedere. Oh! Oh! Folle! Ti ho preso. Fai fare un commento creativo ai nostri fan, per favore. Allora, ragazzi. Un commento creativo. Dovete commentare nei commenti. Nei commenti. Il commento. Vai, sì? Nei commenti col commento. Cosa vi piace mangiare il sabato a colazione? Ok, ma io il sabato mangio la stessa cosa della settimana, Loco. Come è la stessa cosa della settimana? Loco? Ma no, ma sbagli, completamente. Allora, ti devi dare una calmata. Che kill, campione! Ti devi dare una calmata, te. Va bene, vai. Ma ti ho preso, ti ho preso. Vieni, 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 ho uno scudo umano. Ti ho ucciso, lì dovevo. Non ho funzionato molto bene. Non penso che abbia funzionato la scudo umano, esatto. Dove sei, Loco? Ma devi dare? Mi hai fatto perdere tutto! Brutto infame, per te sono il salame! Ma che peccato, ma che peccato! Allora, Loco, facciamo una cosa. Ma che bontà, sì! Allora, se tu fai il bravo, non faccio quello che stavo per fare. E cosa stavi per fare? È una casa brutta, quindi non puoi andare al centro. E se io non facessi il bravo? Se tu vai al centro, è finita. Non già al centro, poi non prendo le tue cose, tranquillo. Voglio i diamanti, voglio. Ma come non prendi le mie cose? Tu dovresti prendere le mie cose. Ma no! Sarebbe più corretto, no? Io voglio i diamanti. Voglio i diamanti. Va bene, allora, accetto volentieri, vado a riprendermi la roba. Che però non so dov'è. Tanto ho più rinostrati di diamanti. Sono a posto. In cima, in cima. Vai tranquillo, tanto è come se avessi già vinto. L'importante è che sia rimasta l'arma. E indovina un po' cosa non c'è? L'arma. L'arma. Arrivi e mi distruggi. Ok. Ok. Ho 27 sveragli. Ho 27 sveragli. Come 27? Sono un po' tanti, no? Porca miseria. Scappa, marci. Scappa, scappa. Ora arriva loco. Ah, su tappi. Sei fatto? Ah, certo. Sono full diamante. Io sono full nederite, in realtà, in questo momento. Allora mi faccio anche full nederite. No, mi faccio full diamante. Basta, ho deciso. Full nederite non puoi fartelo, penso. Full diamante, allora. Ehi, mi manca... Mi hanno rubato nel mettino, sti schifosi. Maledetti! Maledetti! Allora, Assault Truffle. Maledetti! Allora, con loro cosa si poteva prendere, loco? Io non me lo ricordo. Le pozioni, i mele... Le pozioni, le mele, babbo natale, i sassi, loco che viene ucciso. Io mi sto mangiando una bella mea d'oro. Ti vedo, loco. Dove sei? Ah, ma si full nederite davvero. Maricata, gioca a Fortnite. Popliere di Fortnite. Ti ho ucciso. In effetti faccio schifare Fortnite, in effetti. Dai, nell'anno build non sei così scarso. Tu dici, nell'anno build non sono scarso perché è impossibile essere scarso. Hai perso tutto? Tutto, tutto. No, loco, quanto mi dispi... Io non posso più... Io credo che ti ho anche spermiato. Ti ho anche spermiato. No, no, no. Non parare. Questa cosa dovresti far... Dovrebbe farti imparare una cosa, loco, questa cosa. E vai il chifo? Come persona? No, no, no. Oh, che brutta questa cosa, loco. Lo pensi davvero? No, scherzo. Ah, ecco, ci mancherebbe altro. Tranquillo, non lo farei mai. No, porca miseria, ho sbagliato, diamine. Allora, aspetta, posso spiegare quello che ho fatto? Posso spiegare il mio errore? Ai fan... Sono abbastanza curioso. Fan, posso spiegare il mio errore? Non era intenzionale. Loco, dove sei? Ma, Marci, mi sono appena fatto l'armatura, ti prego. Calmati un attimo. Dai, rimuori. Devi calmarti, mi sto facendo le cose con calma. Devi venire a uccidermi. Viecci, loco. Io non vieccio, io non vieccio. E tranquillo che io sto qua e non vieccio. Aia! Allora, io non posso far nulla, Marci. Riesco a prenderti anche da qua. Io non posso far nulla. Aia, lasciami in pace. Dai, esci. Esci, loco. Ok, c'è Ferre che mi difende. Ottimo, brava Ferre. Ferre, devi difendere. E ti stavo difendendo molto bene in realtà, eh. Molto, ma molto bene. È molto bene. Prendi adesso, prendi il messo. Vai, vai. No, non ti posso prendere adesso. In questo momento sto facendo qualcosa di molto più bello, ok? È quel più bello bello, però. Il bello più bello. Sì, ho perso le mele. Ritammi quelle mele d'oro. Porca, non posso prendermi le mele d'oro perché le hanno chiuse. Vabbè, intanto bardo con l'ossidiano. Io vado gli smeraldi. Vado con gli smeraldi. Va bene, vai gli smeraldi, vai, vai. Allora, ti devi calmare a te. Io vedo gli spari da lontano. No, no, io ti sparo da lontano. Perché non dovevi? No, tu non puoi, non mi prendi troppo. Guarda, non mi prendi neanche. Tu ci provi, non ce la fai. Vai, c'è grata. Vai, loco, passa. No, no, non ho armi. Cioè, devo... No, infatti, passa. Torna in base. Loco, torna in base. Via, 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 via. Sono tornato. Ah, beccati questo, mannaggia. Porca miseria, mannaggia a te, mannaggia. Battamarci, beccati questo. Mannaggia a te, mannaggia. Io pure, che da sotto ti prende il cecchino, di nuovo, perché ti resta caduto il cecchino. È perché è palese. Fai sempre le stesse cose. Non è che cambia ogni tanto e dici, no, prendo una cosa di... No, sempre il cecchino, prendo. Perché ciuchino è forte. Ma prima non era il cecchino. Prima era l'alto. Era la R prima? Sì. Ma davvero niente? Io si prendo a Marco. Non muore Marco. Dove sei? Tu dove sei? Ma dove stai? Io sono full vita, tu cosa sei? Come è full vita? Ti ho preso due volte quel cecchino e ti ho preso. Ti ho preso? Sì. Oh, chi era full vita? Eh, ero full vita prima. Quando mi hai colpito prima ero full vita. Vabbè, intanto è inutile beccarsi da qua, secondo me. È vero, in effetti è ragione. È totalmente, non ha senso. Inutile. Adesso vengo a uccidirti, mi spiace. Vieni, 10. Arrivo. Arrivo. Dai 10. Mi devo organizzare. Mi devo organizzare una spizio. Voglio prendermi quelle mele d'oro. Voglio prendermi quelle mele d'oro. Non riesco a prendere le mele d'oro. Non riesco a prendere. Ti rendi conto? Oh, ma ti rendi conto? Come faccio a prendere questa? Enderpearl? Ok, così. Ah, lei ha preso anche te l'enderpearl? Eh beh, certo. Che credi, eh? Ma chi credi tu, eh? Ma chi chissà crede? Ma chi ci ridi? No, 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 no. Via, 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 via. Ti ho visto in faccia, ho visto la tua faccia. No. No, 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 no. Woohoo! Loco, lo kiss. Dai, vai prenderti la roba, va. Vai prenderti la roba. Te la faccio prendere, guarda. Che mi fai tenerezza. Guarda che dall'alto cosa ti butto. Sono rimasti i blocchi, e basta. Guarda, tieni cosa ti do. Prendi sti cosi. Anche un po' d'oro, un po' di ferro. E via. Dai torni in base su Sennò veramente poi E' un casino Loco mi fai paura quando fai così Lo sai Dove sei finito? Sei sparito Arci Dove sei? Non è solo a parte Dove cavolo sei andato? Tu dove sei esattamente? Sono al centro Non mi vedi? Non ci sei Loco lo chi? Ma non ci sei dove sei? Sono al centro Ma dove cavolo sei? Ma sei nella mia base Sei qua sopra per forza Sono sopra Hai preso l'Hander Pearl Sono sotto Sono sotto Sei qua Sono sopra Dove sei? Sei nascosto Sono sotto Non scala qui perché c'è la scala Ma dove cavolo sei? Ma ti giuro sto impazzendo Non capisco Mi fai morire loco Sei troppo simpatico Ho perso la crafting table Hai una simpatia che mi porta Ma che è la crafting table esattamente? Ma fa una crafting table L'ho persa Dove è finita? Vabbè mi ha spinto la crafting table Ma che ne so io? Ma che ne so io? Dove cavolo sei? Sono esattamente al centro Che ho ben appreso i 22 smeraldi 22 smeraldi Vediamo smeraldi 23 Lì non ci sei Lì non ci sei Non ci sei ma Dove sei? Perché sono shiftato al centro Che non hai la visuale per vedermi Ah certo Scusa adesso Ti vendi le scuse Non c'è il visuale Allora se vuoi ti dico dove sono Te lo dico Eh sì Sono nella tua base Sopra Sopra O sopra Continuo a shiftare mentre sali Ho spaccato dei blocchi Ho spaccato dei blocchi Dove sei? Sì ho spaccato dei blocchi Non c'è nessuno qua Non c'è nessuno Loco è nessuno della mia base Non ci sede Adesso vado a tua base Vai E vacce E vacce E tipo si in cima al mondo Vace Vace nella tua base Vallo loco con l'hack del volo Magari Porca miseria Magari Magari proprio Cioè magari proprio Sarebbe veramente bellissima come cosa Però effettivamente è un sepo Un sepo È un sepo Ma hai davvero portato con l'ossidiana E non ho nulla Ti ricordo che non si può Che non si può rompere il sotto Dai se torni nella tua base Ti dico dove sono Devo prendere un piccolo Aspetta tranquillo Allora prima di spaccare il letto Torno nella mia base Ti sto rompendo l'ossidiana Allora prima di rompere il letto Ti torno nella tua base però Perché? Perché sì Perché ti ho fatto un regalo Perché nella mia base C'è la TNT? Vieni Come l'hai presa il letto di marci? Cose lusche Cose lusche Cose loche Dove sei loco? Non al centro adesso Tu dove sei? Non ci sei nella mia base Dove sei? Ti vedo Ti vedo dove sei? Se tu vieni ti dico dove sono Devi venire però Ti ho paura Tu mi butti giù Sei tipo invisibile Sul ponte No no mi trolli Io non vengo nella mia base Mi dispiace Devi venire per forza loco Dove cavolo sei marci? Loco devi venire per forza Devi venire dove cavolo sei? Perché è tutto rotto qua? Dove cavolo sei? Marci Loco guarda sopra Sono bloccato in mezzo agli NPC Sopra No si è attivata Si è attivata Marci 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 Oh sono resti nato nella mia base io eh Loco Tutto bene? Dove cavolo eri? Allora non vale Cioè la tua morte non vale ovviamente Non sono morto Come non sei morto? Non sono morto ero sul ponte Ma porca miseria che fortuna Oh loco fai il bravo eh Dai io ti stavo trollando loco Non vale Ah mi stavi trollando Si ti stavo trollando Ero lì dietro di te Non mi vedevi Non c'eri Non c'eri Marci Non c'eri Loco non mi vedevi semplicemente Marci ti uccido Ok me ne vado Vai in base Vai in base No non puoi spaccarmi il letto così Vai in base Vai in base Allora stai lì Se ti muovi Se tu mi muovi ti ammazzo Vai al generatore Marci Vai al generatore Marci Vai al generatore Marci Loco ti stai facendo Ho io l'arma Ho io l'arma Marci Loco Loco torna Se torni al centro lo faccio Vabbè mi torno al centro Torno al centro Ok Guarda che ti vedo che stai tornando eh Non è vero Loco sei una persona orribile Io? Si Sei una persona terribile Ah No 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 Che killettina signorino Non ho più un'isola Signorino che killettina Eh sei morto del tutto Ho vinto Ho vinto Adesso ti dirò la mia Hai barato No no ho barato Hai barato Vuoi che ti dico cosa ho fatto Hai barato Così fatto Vai nella tua base Io vado in spectator Nella tua base Non esiste più la mia base Non esiste più Vieni nella mia base Non guardare Non guardare Non guardare Non guardo Non guardo Ti voglio dimostrare Ti voglio dimostrare La figaggine Ok Cercami Ti sei trasformato In un pc No perché? Ciao Loco Tutto bene? Sono Kendal Ehi Ciao Mi sei sempre passato di fianco Mi sei passato di fianco Sei volte Ragazzi ci vediamo Per un prossimo Ciao a tutti Ho vinto Eh sì Funziona proprio così la cosa Vabbè